Valmadrera scippa la multisala a Lecco, dopo tanto parlare un accordo, una firma nero su bianco ma non nel capoluogo. Intanto non è che scippa nulla al capoluogo, c'è un accordo di programma tra la regione e il comune che prevede la fruibilità dell'area FOMP, è un'area su cui si sta discutendo da più di dieci anni, ho parlato anche col sindaco di Valmadrera, ovviamente è un'area complessa che deve essere bonificata e adesso la parola più che altro passa alla regione. Noi come comune di Lecco stiamo continuando a parlare con gli interlocutori, in particolare io e l'assessore Bolognini, con gli interlocutori, gli operatori del cinema che vogliono venire presso il capoluogo. Andremo avanti a farlo, poi se partirà Valmadrera saremo contenti, nel senso che comunque, soprattutto in una visione di grande Lecco, ci sta che il decentramento anche di queste attività e di spettacolo. Si parla dello spazio dei space, quello di Vimercate, quindi insomma nomi anche importanti, è evidente che se sorgerà Valmadrera non potrà esserci a Lecco. Beh certo, il primo che arriva, l'ho sempre detto, si accomoda. Tenete in considerazione che non c'è solo questa società che sta interlocuendo con Valmadrera, ma ci sono anche altri operatori che stanno interlocuendo con Lecco. Quindi il problema di fondo è che bisogna vedere chi nell'interlocuzione arriva primo e chi sancisce non già degli accordi di programma, ma un vero e proprio itinerario di fattibilità e operatività. Ecco, certo, questa pietra che mette Valmadrera è significativa e noi siamo ben contenti che ci sia. Il bione, tra le ipotesi anche quella di costruire lì la multisala? Sì, era una delle opzioni che ci eravamo dato quando pensavamo al project. C'è ancora, è evidente che se qualcuno arriva prima, quella è un'opzione che scarteremo e andremo a finalizzare l'intervento esclusivamente sul centro sportivo.